Sarà sostenibile a qualcuno, a qualcuno? No, noi abbiamo pensato di non procedere ad alcuna sostituzione è una forma di rispetto secondo noi artisti del Giacomo se mi permettete di usare la parola artistica è un'altra cosa che si fa dicendo è un'altra cosa che si fa dicendo è un'altra cosa che si fa dicendo